L'avevano ridotta in fin di vita per pochi spiccioli, una rapina brutale che aveva preso di mira un soggetto debole e indifeso. Il 24 marzo scorso, i danni di Cecilia Zacchello, 85 anni, sorpresa da sola nella sua casa di mestre quando era appena tornata con le borse della spesa. In carcere sono finite due persone, già note alle forze dell'ordine, Emanuele Luraschi, 44 anni, veneziano, e Vincenzo Casati, 52 anni, tarantino, il primo, abitava nella stessa via in cui risiede la vittima. Secondo l'accusa, il veneziano sarebbe il mandante della rapina poi eseguita materialmente dal tarantino. Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce su come si è svolta l'azione della coppia, anche grazie ai riscontri effettuati sulle impronte digitali del reparto investigazioni scientifiche di Parma, sia sul corrimano della rampa di scale, sia sullo scalpello lasciato sul posto, impronte già presenti nei database delle forze dell'ordine. A collegare i due sono stati poi numerosi contatti telefonici, soprattutto il giorno della rapina, ma c'è anche la vendita di uno degli anelli rubati da parte del veneziano, registrato in un comprooro di mestre poche ore dopo la rapina. I due avevano studiato per giorni le abitudini della vittima. Finché il 24 marzo scorso sono passate all'azione, uno l'avrebbe preceduta lungo le scale, appostandosi al piano superiore e attendendo il momento in cui la donna ha aperto la porta di casa. A quel punto sarebbe sceso e l'avrebbe aggredita alle spalle, spingendola all'interno dell'appartamento e picchiandola selvaggiamente con uno scalpello, continuando anche dopo che l'85enne era crollata a terra sotto i suoi colpi. Alla fine la poveretta rimediò 12 costole rotte, diverse fratture maxillofaciali e la frattura anche di due dita per sfilarle gli anelli. Era poi rimasta a terra priva di sensi per 5 o 6 ore, trovando solo nel tardo pomeriggio la forza di chiamare i soccorsi.